Buonasera a tutti, eccomi qua dopo la partita tra Sassuolo e Torino finita 1 a 1, Pinamonti al 36esimo e Tony Sanabria al 66esimo. Nel primo tempo il Torino ha giocato bene, ha avuto la bellezza di sette occasioni tra cui anche una traversa, che però purtroppo non sono andati a buon fine. Il Sassuolo dal canto suo ha giocato male praticamente quasi tutto il primo tempo e mentre noi abbiamo avuto sette occasioni per segnare, anche alcune molto clamorose, il Sassuolo con un contropiede, con un contropiede solo, ha segnato con Pinamonti al 36esimo. Quindi la Svigac ha girato molto molto nel primo tempo sicuramente, fino a che non è arrivato il gol di Pinamonti e quindi non sinceramente c'è poco da dire. Ci sono stati anche dei rientri molto importanti, da Mirancuk a Lazzaro che hanno giocato molto bene. C'è stato anche in Etis che però non si è visto così tantissimo. Radonic ha giocato molto bene, ha infatti un fatto è una delle occasioni più clamorose l'ho avuta proprio lui. Tutti sulla sufficienza e anche forse qualcosina in più. Chi merita un discorso a parte e qua mi incazzo perché è clamoroso quello che è successo a livello di arbitrare stasera e che l'arbitro per quanto mi riguarda mi ha fatto molto incazzare stasera perché comunque è scandaloso quello che non ha fatto perché veramente c'erano diversi falli importanti soprattutto su Ricci che stasera veramente ha preso sberla destra sinistra e intratacce e interventi sconsiderati veramente al limite del regolamento è l'unica l'unica munizione che ci sta che che lo ammonisce ci mancherebbe però insieme a quella ce n'erano almeno altre cinque o sei da munizioni mi fai un'ammunizione per parte quando al sassuolo dovevi ammonirne almeno cinque o sei almeno sei l'arbitro inter veramente io io non ho mai visto una partita cioè di partita non ho visto ci mancarebbe ma così da nervoso che mi hanno fatto veramente saltare i nervi che se se avessi potuto avrei preso il treno sarei andato a sassuolo e sarei sceso in campo io avrei preso a schiaffi l'arbitro per quanta demenza aveva questa questa sera quest'arbitro perché è assurdo e questo non un campionato come in tutti i campionati è inammissibile però una partita in cui ci sono i contrasti ci stanno perché comunque una partita di calcio ci mancherebbe ancora che non ci sono i contrasti ma piedi a martello e interventi cioè proprio come se non era un campo da calcio non era una partita di calcio stasera era un campo di battaglia in cui l'arbitro non c'era perché c'era fisicamente ma non c'era a livello di cartellini che è veramente assurdo veramente assurdo cioè io non ho già pensato se c'era tipo un per dire per fare un esempio se ci fosse stata quella cazzo di scuola di merda di della juve pensa pensate voi se tutti questi questi interventi qua che ha fatto il sassuolo non gli dava il giallo per forza perché la juve si fa a favore a vicenda ci si fanno un sacco di favori ma qualunque altra squadra c'è interventi veramente da da ma ce l'hai ma schifosi all'inverosimile io sono sono basito e veramente non lo so ultimamente gli arbitri che ci vengono a fare la partita non ci sono c'è chiamano uno che che sta passeggiando di fuori allo stadio dicono viene arbitra la partita non sa neanche come sia arbitra perché a sto punto mi viene pure a pensare questo cazzo se un arbitro sei pagato vuoi arbitrare in un campionato non sei non sai neanche qual è un fallo ma cazzo ma noi stiamo dove sta scritto ma fa schifo una roba del genere magari non avrebbe cambiato l'esito della partita ma non lo puoi sapere magari si sarebbero dati una calmata a quelli del sassuolo invece ma che ogni intervento si lasciamo correre chi se ne frega tanto se spacchi poi la gamba un giocatore chi se ne frega lo mandi di nuovo all'ospedale già l'infermeria del torino brulica di infortunati e tra cui quelli che erano entrati stasera pellegrini anche entrato stasera insieme a miranciuche e chi c'era e lazaro cazzo ma non non esiste che fai degli interventi così cioè io spero che tanti di voi la partita l'abbiano vista e che l'abbiano vista con i miei stessi occhi perché se l'hanno vista così tanto per guardare qualcosa in televisione che non sapevano che cazzo fare non si intendono di calcio io qualcosina di calcio lo so e quello che ho visto stasera mi ha fatto veramente schifo ma schifo veramente schifo comunque dopo questo piccolo appunto andiamo a le statistiche della squad e delle delle statistiche della partita con 12 tiri totali del sassuolo contro i 16 del torino quindi già di qua si parla molto chiaro ti importa del sassuolo 4 contro i 2 del torino uno tra l'altro un dato a anni in rete possesso palla 47 contro 53 del torino passaggi 432 contro i 482 del torino precisione nei passaggi 82 contro 84 quindi sempre appannaggio del torino falli qua dice 12 ma io hanno visti almeno una quindicina riguardanti il sassuolo ma lasciamo perdere 9 del torino e mi sembra anche meno rispetto ai nuovi che sono i nuovi che sono che sono scritti qua ammunizioni 1 per parte quest'anno ingiustizia abominevole perché almeno del sassuolo 5 6 andavano ammunizioni in seduta stante ma non sono io a giudicare l'esito di questa partita espulsioni anche qua va bene così fuori gioco 1 del sassuolo 3 del torino calce d'angolo 6 del sassuolo e 7 del torino ora andiamo a vedere la formazione che pressoché è stata quella che vi ho detto prima infatti Milinkovic e Savic tra i pari Graviglione Scursi buongiorno in difesa Rodriguez Linetti Ricci Singo Ricci e Linetti a centro campo sulle fasce destra e sinistra Rodriguez e Singo Vlasic e Radonice a supporto di Sanabria durante la partita sono entrati appunto Miranciuk Lazzaro e Pellegri e anche Gigi è entrato quindi ha fatto diversi cambi durante la partita Pellegri appunto al posto di Sanabria Lazzaro al posto di Singo Gigi al posto di Graviglione Voivoda al posto di Rodríguez e Miranciuk al posto di Radonice che comunque stasera si è pure comportato molto bene di per sé tutti i giocatori si sono comportati bene peccato per queste palle veramente questo risultato che se nel primo tempo ci dava abbastanza ragione nel secondo tempo abbiamo sprecato un po' di... siamo andati un po' in bambola però comunque forse è più veritiero questo risultato nel secondo tempo che non nel primo ma con i secoli ma non si può mai dire niente adesso prossime partite contro la Roma contro la Roma e poi Salernitana tutte e due in casa e quindi vediamo un attimo quando c'è quella contro la Roma che tra l'altro ha pure vinto 3-0 contro mi sembra la Sampdoria allora il Torino-Roma è sabato quindi tra meno di una settimana e poi il Torino-Salernitana invece è domenica prossima alle 16.04 alle ore 15 mentre Torino-Roma è alle 18.30 con questo... con questo... con questo... con questo ripilogo della... con questo pre partita... ehm... post partita di Torino... ehm... Sassuolo-Torino vi lascio, vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo poi per... ehm... le prossime partite buonanotte a tutti